Continua ad aumentare il tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese che raggiunge il 241 casi per 100.000 abitanti. Osserviamo invece una leggera flessione dell'RT che comunque si fissa intorno a 1,13, quindi ben al di sopra dell'unità. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area media e di terapia intensiva siamo rispettivamente al 12,1% e al 9,6%, quindi a livello nazionale di poco e di sotto della soglia critica e viene però superata in ben 7 regioni italiane. Data la situazione epidemiologica, la preluminanza della variante Delta che comunque sia molto trasmissibile e soprattutto l'iniziale circolazione della variante Omicron che sta correndo in alcuni Paesi europei, ebbene in vista delle vacanze natalizie, cercare di evitare grandi aggregazioni, mantenere i comportamenti ispirati alla prudenza ed effettuare la dose di richiamo di vaccino per aumentare la nostra protezione.